Una storia di solitudine, protagonista ancora una volta a un'anziana. Succede a lunedì notte a Vicenza in via Parini. Un 86enne cade in casa e non riesce ad alzarsi. Inizia a urlare, chiede aiuto. Viene sentita da una vicina che lancia l'allarme al 113. La centrale operativa della Questura invia sul posto una pattuglia della squadra volanti che individua l'appartamento dove si trova l'anziana in difficoltà. Vista l'urgenza, gli agenti allertano il 118 per fare intervenire anche un'ambulanza. I poliziotti, intanto per non perdere tempo prezioso, entrano nell'appartamento attraverso una finestra rimasta aperta da cui si sentono chiaramente le grida della donna che chiede aiuto. Arrivati in cucina, i poliziotti trovano l'anziana per terra che, nonostante lo stato confusionale e di semicoscienza, riesce a ringraziare i suoi soccorritori. La donna, vittima dell'incidente domestico, vive da sola. È stata trasportata all'ospedale San Bortolo per gli accertamenti del caso, ma l'intervento della polizia è stato provvidenziale.